Allora, Nando, c'è una piccola cosa qui, perché noi, i nostri campioni del passato, ce li ricordiamo sempre, perché sei sempre il nostro numero di riuscire. Così la prossima parte di calcetta è un po' di riuscire, tu però l'uno che mi ha usato. No, 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 no. Buongiorno a la Greta.